ciao oggi leggiamo dai facciamo il bagnetto in compagnia di quattro piccoli amici avremmo banni miccia pinky e teddy loro ci faranno compagnia nella lettura di questo libro pinky teddy miccia e banni sono stati al parco giochi tutto il giorno e si sono divertiti tanto vediamo cosa hanno fatto miccia è scesa dallo scivolo pinky ha costruito un bel castello di sabbia teddy ha usato una barchetta e l'ha fatta andare nel laghetto e banni ha dato l'acqua a tanti fiorellini guardiamoli adesso sono tutti pieni di fango tutti sporchi forza ragazzi è ora di farsi un bel bagnetto banni entra in acqua per primo e si lava dalla testa ai piedi prende la sua paperella e la mette nella vasca per fargli compagnia prende il bagno schiuma e si cosparge tutto il corpo lava 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 prende lo shampoo e lo mette sul pelo della testa lava 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 bene anche tra le orecchie e poi con lo sbroffino si risciacqua esce dall'acqua e quando è bene asciutto si mette il borotalco su tutto il corpo che bravo con il letto ciao banni ora tocca a miccia dopo il bagno miccia si siede al suo tavolo e si asciuga con il phon si spruzza un po di profumo e si spazzola bene il pelo che brava gattina ciao miccia è il turno di pinchi il maialino vediamo dov'è eccolo qui uscito dalla vasca e messo l'accappatoio va al lavandino e deve lavare i denti vediamo un po prende lo spazzolino e il dentifricio mette il dentifricio sullo spazzolino e lava i denti su e giù a destra e a sinistra beve un goccio d'acqua glu 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 e risciacqua i denti ma deve fare ancora una cosa si deve tagliare le unghiette lame e gliariani delle zampe prende le forbici piccolina e inizia a tagliare le unghie zic zacc, zic zacc, zic zacc, zic zacc. Che bravo maialino! Ciao Pinky! Vi ricordate chi manca? Il nostro Teddy, eccolo qua. Dopo il bagnetto, vediamo un po', si mette la crema su tutto il corpo. Si pettina il pelo e mette anche un po' di gel. Vorrà farsi una cresta? Ma non riusciamo, ha il pelo troppo corto. Bravo Teddy! Ciao! Banni, Micia, Pinky e Teddy sono puliti e profumati. Cosa faranno ora? La pappa e poi la nanna, naturalmente. Aspettiamo quindi di vederli mangiare la loro pappa preferita. Ciao!